Io mi sono iscritta al Partito Democratico pochi giorni fa per poter votare alle primarie per il nuovo segretario del Partito Democratico e per votare Gianni Cuperlo. Alcuni giornalisti mi hanno chiesto perché Gianni Cuperlo, se sono una vetero sinistrosa. Io non sono una vetero sinistrosa, anzi, ma ritengo che il fatto che Gianni Cuperlo abbia fatto parte della sinistra re 1992, cioè del Partito Comunista, non significa ritornare indietro. Gianni Cuperlo è una persona così intelligente e aperta, sa benissimo che cos'è oggi la sinistra e sa benissimo qual è la posizione del Partito Democratico. Quindi qui non c'è nessuna vetero nostalgia, non si vuol tornare al 1921 come qualcuno sostiene. Gianni Cuperlo rappresenta quello di cui la sinistra, cioè il PD ha bisogno ora, rappresenta una visione riformista che abbia una chiara idea di che cosa sia la democrazia e la cittadinanza democratica e perché è importante prendersi cura di quella grande maggioranza di italiani che non vanno a votare perché non si riconoscono con quello che si chiama sinistra. Per tutte queste ragioni Cupero è importante, lo è per un'ultima importantissima ragione perché ha consapevolezza dei problemi di organizzazione del PD, non si accontenta di essere un leader e di pensare che tutto si risolva nelle elezioni del segretario, sa benissimo che il Partito Democratico ha bisogno di una riorganizzazione che dia spazio agli iscritti ma anche alle sedi e all'organizzazione interna e alla democrazia interna, che abbia cioè la capacità di essere un segretario di un partito collettivo. Loro si chiama comunità oggi, a me piace più l'espressione di un partito collettivo. Io quindi chiedo a tutti coloro che vogliono avanzare questa visione di partito di cui c'è tantissimo bisogno soprattutto ora che la sinistra ha difficoltà di costruire un'opposizione e che non vuole che il Movimento 5 Stelle occupi quel posto posizionale che spetta il PD per tradizione e per caratteristica e che ha bisogno di ricostruire un'alternativa contro questa destra che sta diventando egemonica e questo è un rischio enorme. Per tutte queste ragioni, insomma, è urgente, primo, prendersi cura di questo partito, secondo, farlo in una maniera intelligente che abbia a cuore la sua identità di partito di centro-sinistra. Quindi si deve votare Gianni Cupero come segretario del Partito Democratico. Buon lavoro e grazie, buona giornata. Buon lavoro e grazie a tutti.